Quanto combatterà ancora Alexa Bliss? So che a molti di voi la ragazza piace molto ma di recente ahimè per le vostre ambizioni sentimentali ha ricevuto e accettato la proposta di fidanzamento del cantante e compositore Ryan Cabrera con i due pensate un po' la curiosità che si sono conosciuti circa un anno e mezzo fa forse anche qualcosa di meno grazie a Demiz amico di Cabrera che gli ha presentati l'uno all'altra. Come sapete in America la proposta di fidanzamento equivale ad una promessa di matrimonio ok non va presa sotto gamba non necessariamente è un matrimonio imminente ma comunque è un impegno ufficiale non ci si fidanza a cuor leggero che puoi in effetti può anche andare tutto all'aria e intendiamoci come è accaduto ad esempio restando nel mondo del wrestling tra John Cena e Nikki Bella però diciamo che capita ma molto raramente ad ogni modo in una recente intervista Alexa è sembrata molto motivata a mettere su famiglia e ha spiegato a Maria Menounos che ha avuto passati precedenti in WWE non come lottatrice ma forse ha fatto qualcosa anche nel ring ad ogni modo le ha spiegato che intende restare nella federazione sino al termine del suo attuale contratto che scade all'inizio 2024 dopodiché calcolando che allora lei avrà 32 anni se ho fatto bene i conti e Cabrera 41 ecco allora la priorità sarà avere dei figli che potrebbero anche allontanarla definitivamente dal mondo del wrestling. Cabrera che prima di incontrare Alexa viveva a Los Angeles si è trasferito a Orlando in Florida proprio per condividere la vita con la Bliss e ha ottenuto il sì al fidanzamento pensate un po' che bella cosa tra l'altro dopo averla sorpresa con una canzone d'amore scritta appositamente per lei con una canzone d'amore scritta appositamente per lei